Continua il lavoro dell'Osservatorio regionale per la legalità in Toscana, organismo istituito nel 2015 per raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose. È stato fatto il punto sui compiti dell'Osservatorio e sul lavoro svolto fino ad oggi con particolare attenzione sulla vicenda Cheu. Allora noi abbiamo dedicato molto del nostro lavoro al caso Cheu che ci è sembrato anche emblematico di tutta una serie di dinami che rischiano di essere veramente non soltanto l'infiltrazione nel tessuto economico ma anche questa prospettiva del lavoro che diventa in qualche modo una sorta di cavallo di troia per i movimenti delle associazioni criminali di stampo mafioso. Mi spiego, se un imprenditore acquisisce dei servizi rispetto alla propria attività a un prezzo sospetto è chiaro c'è qualcosa che non va. Quindi sul caso Cheu nello specifico smaltire a quel prezzo significava automaticamente capire che c'era qualcosa di poco chiaro. Ecco noi abbiamo lavorato su questo caso in particolare perché oltre all'urgenza storica ci è sembrato veramente qualcosa su cui lavorare nella prospettiva di quello che sarà. Poi sicuramente alcune udienze, alcune audizioni sono state particolarmente significative. Per esempio le camere di commercio ci hanno ripetuto la loro disponibilità a incrociare i dati con le forze dell'ordine. Le forze del lavoro che anche oggi dobbiamo ascoltare ci hanno prospettato un quadro che complessivamente ha le sue fatiche e le sue difficoltà. Anche in Toscana abbiamo caporalato, anche in Toscana abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda anche proprio il meccanismo del controllo di quello che accade nei cantieri e a riguardo, ci dispiace aver in qualche modo anticipato qualcosa di così drammatico, Via Mariti ci ricorda che come abbiamo appunto, come ci siamo permessi di suggerire, che bisogna potenziare gli ispettorati sul lavoro. Le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra il legale e il legale diventa sempre più labile e come accade in altri settori produttivi rischiano veramente di appaltare a altre mafie e quelli sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromittorio svolgere.